Musica E ciao a tutti bella raga Oggi siamo in un buonissimo video E allora vi racconterò una barzelletta Inventata da me e mio papà Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale Perché ci sono dei contenuti bellissimi Vabbè continuiamo Allora c'è questa persona Che stava giocando e si è sentita male E sviene Quindi lo portano dal dottore e il dottore gli dice E' morto non ce l'ha fatta Mi dispiace E quindi fanno Il funerale E lo devono portare col carro funebre Carro funebre A 30-20 km Di distanza Quindi Quello che era la guida inizia Ad andare velocissimo perché dice No non arrivo Arrivo in ritardo Quindi Curva di qua la barra Curva di là La barra si muove tutta E il signore che è dentro la barra Inizia a svegliarsi Si sveglia Perché lui non era morto Era solo svenuto Si sveglia e dice Ma dove sono? Sono dentro una barra E la barra sempre che sbondaccia E quindi poi dice No non ce la faccio Devo ancora accelerare Arriva una salita E questa mi impedisce Un po' la strada Quindi accelera sempre di più Accelera Una discesa Si ragazzi Una discesa Quindi Questa è a favore mio Arriva a 150 160 170 800 Si 800 180 200 220 Fa la curva La fa male Si capotta La barra si apre E Quello che era dentro la barra Va dall'autista E lì dice Ma che mi vuoi far morire? Like ragazzi Questa è inventata da noi Troppo bella Ciao